Si è tenuto stamane presso l'Hotel della Villa la conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra l'Università Lewis e l'Associazione Total Life per la realizzazione e promozione del quinto bando di concorso per gli istituti di primo e secondo grado della provincia di Avellino. L'argomento dell'iniziativa sarà uno sviluppo economico, povertà e giustizia sociale, contraddizioni del mondo contemporaneo e nuove prospettive. Nell'area studio ricerca e formazione si terranno tre iniziative, formazione in servizio degli insegnanti, sensibilizzazione degli studenti e concorso Total Life. Per i docenti invece è previsto un corso di formazione di 20 ore che si svolgerà tra ottobre e marzo, dove si terranno tre incontri gestiti da un docente universitario socio di Total Life, 10 ore di studio e 8 di elaborazione di un lavoro personale. L'iniziativa sarà registrata sulla piattaforma Sofia e al termine dell'attività, che avrà frequentato il 75% delle lezioni, riceverà un attestato. Un progetto rivolto ai ragazzi, cercare di far sì che i ragazzi possano scoprire temi a loro apparentemente non immediati o di cui invece sentono magari parlare i media quotidianamente, ma senza prenderne consapevolezza. In quest'anno in particolare ci stiamo evolvendo ulteriormente, perché daremo ai ragazzi la possibilità, partendo da una formazione che arriverà dal mondo universitario, verso il mondo dei professori, del mondo scolastico, delle istituzioni, perché questa poi arrivi fino ai ragazzi, abbracciando un arco temporale di 4-5 mesi nel quale loro faranno dei progetti, al termine dei quali verranno poi assegnate loro delle borse di studio per le summer school della LUIS, summer school di orientamento universitario, per scoprire dei mondi universitari. Stiamo parlando di una tematica, quella che verrà trattata nella borsa, direi di interesse sicuramente rilevante. La partecipazione ad una settimana, una per ogni studente, alla summer school della LUIS. Che cos'è? È una settimana che trascorreranno nel campus dell'università, a spese dell'università, e dove gli studenti potranno entrare in contatto con il mondo dell'università e quindi essere informati su quali sono i percorsi possibili, quelli che li possono interessare, per poter fare anche delle scelte oculate. Questo progetto ha anche un'altra sua interessante caratteristica, una piattaforma sulla quale si potranno collegare gli studenti e i professori, che consentirà loro di poter rivedere in streaming le lezioni che sono state tenute dai docenti, e anche di poter attingere materiale informativo, testi, ricerche, relativi alle tematiche della traccia della borsa di studio.